A Toro del Greco si riscontra un aumento dei casi di contagio da Covid-19 durante il weekend. Sono 40 nuovi positivi registrati nel fine settimana, di cui uno soggetto al regime ospedaliero. 30 i soggetti dichiarati guariti. Mutta dunque il bilancio dei contagi nella città. Sono 481 i cittadini positivi, di cui 30 ricoverati, 1766 le persone guarite e 53 i deceduti. Aumentano i positivi anche nella città di Castellammare di Stabbia, registrati negli ultimi due giorni 37 nuovi casi di contagio da virus. Sono stati dichiarati inoltre sulle tre guarigioni. Il bilancio dei contagiati continua dunque a spaventare la città di Castellammare. Sono 1557 i cittadini attualmente positivi al virus, 1023 i guariti totali dall'inizio della pandemia e 27 i deceduti. Dagli ultimi dati forniti dal sindaco di Ercolano, Cino Buonaiuto, sono 35 nuovi positivi a fronte di 65 guariti. Si attestano dunque 536 attuali positivi nella città. Continua a scendere quindi la curva dei contagi ad Ercolano, rispetto alla precedente comunicazione del 10 dicembre, quando il numero dei positivi era di 564. Nei giorni al 4 e 10 dicembre si registra un numero di tamponi effettuati ai cittadini di portici pari a 1189, con un esito di 100 nuovi contagiati e con un numero di guariti di gran lunga e superiore al numero di nuovi positivi. Si consolida quindi il trend di diminuzione dei casi a portici. 158 cittadini attualmente positivi al giorno 12 dicembre, con una percentuale di positivi sulla popolazione residente pari allo 0,29%. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!